Il percorso è partito circa un anno fa e i passi sono andati nella direzione giusta. Idee e progetti curati dal comune di San Mauro Pascoli per sviluppare il Parco Poesia nella prestigiosa Villa Torlonia. Da una parte il percorso multimediale è dedicato al poeta che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. Dall'altra la ristrutturazione vera e propria. L'allestimento prevede una spesa di circa 1,5 milioni di euro e si attende il finanziamento pubblico Poser Fesor. L'idea è quella di realizzare un teatro da 250 posti. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati a presentare la domanda regionale che scadeva il 30 aprile con un progetto definitivo, quindi un progetto ad alta canterabilità che era quello che prevedeva il bando e per cui confidiamo proprio sulla possibilità di accedere a questo bando che è strategico per noi. L'obiettivo è quello di recuperare la parte che noi chiamiamo ora sala del teatro che era la sala delle granaglie dove tenevano il grano e tutta la zona delle tabacchine ma soprattutto abbiamo la possibilità di rendere accessibile tutta la villa anche per i portatori di handicap cosa che oggi non è, dalle cantine fino al piano nobile. Assessore, è un percorso partecipato che arricchisce il mosaico del brand Romagna? Sì, è un percorso importante, è un percorso partecipato, una visione strategica, una progettualità importante che ha messo in campo il comune di San Mauro Pascoli per valorizzare questo grande contenitore molto evocativo, molto suggestivo legato a una delle grandi figure letterarie della nostra regione, della Romagna che è Giovanni Pascoli. Un progetto che rafforza l'identità della nostra regione, rafforza l'identità della Romagna che insieme ad altri grandi personaggi culturali, artistici e letterali può davvero concorrere alla costruzione di un nuovo prodotto turistico che provi a tenere insieme il grande distretto turistico della costa con le grandi eccellenze culturali, artistiche e paesaggistiche dell'entroterra. Grazie. Grazie.